e quello si regge noi in quattro e' stato agitico quello dopo quello dopo? e' uguale si viene indietro e' uno dai passati e' un dai passati anche le fotografie e' una musica e' un sacco e' un sacco e' un sacco e' acido per senti e' un sacco e' acido cotone a me viene la piscina a me viene la viva le viva allargami allargami vedi che vedi che vedi che vedi che vedi vedi che vedi e' poi partite vale 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 Ale esci di casa, ma sono circondato, Ale esci di casa, Ale non ti sposà, Ale non ti sposà, Ale, 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 Ale Buon appetito! Che ragazze di là? Che ragazze di là ti piace? Tira giù giù, tira dai un po' giù Ma che c'è scritto? Ma che c'è scritto? Ma che c'è scritto? Per due giorni mi chiamerà chiamare un po' di più Per due giorni! Ehi, per due giorni mi chiamare un po' di più Oh, dici la squadra! Ehi, a partire! Ehi, a partire! Ehi, a partire! Ehi, a partire! Ehi! A partire! Ehi, a partire! A partire! Attacchiamola alla Fabio Bello eh, poetico